Tutti da Saludatore, grandissima sorpresa direttamente dal teatro Vincenza Altamura, eccomi qui con due grandissimi, ecco qui il grande, diciamolo, Ermotifica ragazzi, non se lo ricorda, Roberto Ranelli, per gli amici Laura, ecco per gli amici Laura, lo hai ingastrato adesso, non è vero, Laura non c'è, è grandissimo, è andata via, supergrande, no no no, Antonio, Antonio, delle donne, non ce n'è una, non ce n'è una, ragazzi lui è, il salutatore, lo scritto, lui è il sabotatore, il salutatore, da tutte le parti è un sabotatore, no il salutatore, il sabotatore, tu pensa che ha fatto un servizio su quello che, come si chiama, il fuggile, il fuggile americano, americatore, un tiro per Beruti, tutto a ore, no, quello là che fa il film Rogi Bilbao, quello che faccia la barba, slide, slide, stallone, grande slide, stallone, ecco qui, allora, e poi in italiano ha detto stallone, mi vedi di stallone, una volta gli hanno fatto una battuta, ma chi è che fa la barba, Wolverine, vero? Wolverine, esatto, Wolverine, veramente, comunque siamo qui per una cosa molto seria, molto importante, allora, e dobbiamo lanciare un messaggio vero, reale, signore e signori, proteggiamo la femmina del passero, sì, salviamo la passera perché è sempre in via d'estinzione, abbiamo creato questa situazione che è la Federazione Italiano Gioco Amore, la figa? No, 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 questa la cancelliamo, questa ormai è andata, è andata, ma è in diretta, è in diretta, è in diretta, allora, noi saliamo intanto tutti i fans di Roberto, questo nostro interventino, insomma, per arrivare a qualcosa di serio, ecco, allora, io so con Fiasla, Roberto, dicci, io so con Fiasla, è una manifestazione, insomma, una serie di spettacoli creati dal sottoscritto per racimolare, per avere dei fondi da donare per acquistare una casa in legno da donare al comune di Fiastra, Fiastra è tra Camerino, Macerata e Visto, ecco, diciamo, l'epicento dell'ultimo terremoto del 30 ottobre e quindi mi ha avuto idea, come a me, come tante altre persone che vedo che per fortuna, insomma, in Italia questa... La solidarietà è presente. La solidarietà vedo che è bella, sostanziosa, e ho cercato di mettere insieme tutte le mie conoscenze, colleghi, amici, musicisti, attori, per creare una serie di spettacoli, spettacoli itineranti per avere la possibilità di prendere queste donazioni dal pubblico per poi acquistare questa casa e donarla al comune di Fiastra. Tengo a precisare che il sindaco stesso mi ha fatto un certificato... Delegato, delegato. Mi ha delegato con un certificato firmato da lui e con il timbro appunto del comune di Fiastra che mi autorizza a organizzare spettacoli per prendere fondi per poi acquistare questa casa. Anche perché, ragazzi, a parte gli scherzi, le risate, Ranelli è una persona seria ed è sinonimo di lealtà e verità. No, sono serio. Sono serio raramente perché mi piace più far sorridere come il nostro amico Ranelli, però insieme cerchiamo di donare un sorriso a chi un motivo per sorridere non ce l'ha. Loro purtroppo hanno perso quasi tutto e hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Il nostro amico Ranelli porta un sorriso laddove le persone hanno ancora bisogno di un suo obiettivo. Portiamo, portiamo. Tengo a precisare che sulla pagina Facebook hashtag io sto con Fiastra ci sono tutte le foto dei passati spettacoli, le informazioni, tutte le prossime eventi che sto cercando di organizzare. Andate a cliccare sopra hashtag io sto con Fiastra, ma la cosa più importante è che c'è anche un codice IBAN che ho a nome mio, quindi sono l'unico responsabile. Andate, se qualcuno volesse donarci piccoli soldi, ci fidiamo di te, ci fidiamo perché sappiamo che tu vai sempre agli eventi di beneficenza, da sempre, lo posso testimoniare anche io ma tutti quanti. ci vuole anche quello, ci vuole. Ecco, io a tale proposito, ecco, do la manina del salutatore al nostro amico Roberto come segno di rinascita, perciò siamo tutti con Fiastra, aiutiamo Fiastra, io sto con Fiastra e a questo punto salutiamo tutti quanti coloro che ci seguono. Ciao a tutti. La manina del salutatore. Ma quant'anni puoi grattare? Quatt'anni c'è? Quifo se vuoi fa tutto. Non entrare, non se va. Cioè no, ma la manina del salutatore. La voleva pure lui, la voleva. La voleva pure io. Ciao.